Sono iniziati i giorni più caldi di tutta l'estate. Si raccomanda di stare in casa. Sono in totale 3,75. Ecco, tieni il resto. Questo è un dollaro. Ecco, sei be... be... belli... Charlie! Pizza ai peperoni? Senza offesa, ma la sacagnolina è incinta o è solo grassa? Volevo una pizza, non scambiare opinioni. Ecco perché ai ragazzi non piacciono gli anziani. È fiacco, stanco, non ha più appetito. Sam ha bisogno di essere portato fuori e incontrare nuovi cani. Sono 300 dollari. L'ho trovata ieri. Ha un musetto così felice e arrabbiato allo stesso tempo. La gravidanza ha cambiato tua sorella. Lasciami passare. Ha la rabbia di uno scimpanzo. Vedi di badare al mio cane e non fare danni finché torno! Nel mio palazzo i cani non sono ammessi, mi butteranno fuori! Come faccio a farti salire? Oh, entra pure! Sarebbe possibile fare del volontariato? Sì! Sì! Signor Pizza e peperoni! Mabel, Mabel! Ti sei persa, cucciola! Possiamo tenerla! Con noi l'ex capitano dei Los Angeles Ram. Una co-conduzione! Questo bamboccio non sa minimamente cosa significa chi condurre un programma di news. Il pubblico adora vedervi insieme. Charlie, gli angoli che hai annusato fino adesso sono tutti uguali! Ti prego, falla da qualche parte! L'aiuterò a trovarla. Sarai la mia migliore amica. Questo cane ci ha resi una famiglia. Di chi è quel cane? Non ti ho riconosciuta senza il fumo che ti esce dalle orecchie. Il proprietario ha venduto lo stabile senza nemmeno avvisarci. Faremo una raccolta fondi. Siamo all'evento di beneficenza della New Trick. Vi aspettiamo. Jimmy! Uber, Uber! No, meglio correre! Scusa! I cani ci aprono il loro cuore. Per amare e per essere amati. Non è meraviglioso? È solo la mia attrezzatura. Falli uscire! Qualunque cosa pensi, sei al sicuro che... Falli uscire! Un cane! Ciao, cucciolo! Ciao, cucciolo!